Con Coach Piazza al termine di questo test match con Modena a due pari, adesso c'è un altro impegno, c'è un bel torneo a Iesi per cui diciamo che il precampionato entra proprio nel vivo, manca poco meno di 20 giorni all'inizio della Superlega. Diciamo che finalmente era nel vivo, è da mo' che aspettiamo di cominciare a giocare e dobbiamo imparare a farlo un pelino meglio rispetto a come l'abbiamo fatto oggi, su alcuni fondamentali ma soprattutto sulle scelte che dobbiamo fare noi, che non riguarda la squadra avversaria. Dobbiamo essere bravi noi a giocare la nostra migliore pallavolo, sapevo prima, lo so tuttora e dopo stasera ne ho la certezza che dobbiamo conoscerci un po' di più per farlo sempre meglio. Guardiamo in casa nostra e poi trarremo le somme. Il torneo di Iesi arriva a Duopo, nel senso che dobbiamo giocare due partite contro due squadre sicuramente molto toste. Quello che dico ora ai ragazzi non è così importante il risultato, è importante come stiamo nel campo e questo è quello che ci deve servire a Iesi.